Io non credo che l'Ucraina vada lì per chiedere alla Russia di uscire con le mani alzate e andarsene. Va lì per contrattare una soluzione che possa andare bene sostanzialmente a tutti e due. Ci sarà chi ci guadagna di più e chi ci guadagna di meno, ma sicuramente una soluzione di compromesso. E questa è la logica di tutte le guerre. Le guerre si sono sempre concluse in questa maniera. Le guerre che si concludono col cappio al collo dello sconfitto sono destinate a non finire mai. Perché chiaramente se uno sa che l'unica alternativa che ha è quella di essere poi preso e magari condannato, è chiaro che le guerre non finiscono. No, le guerre sono sempre finite, c'è sempre stato una specie di galateo fra gli stati che anche durante le guerre consentiva di arrivare poi nel momento in cui si è trovato il compromesso finale, nel momento in cui qualcuno dice basta, ne ho prese abbastanza, vediamo di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Ecco, questa è la logica della guerra.